In Puglia è scattata l'ora verde, si chiama Puglia Green Hour, il progetto del teatro pubblico pugliese che porta arte, musica e filosofia in scenari insoliti, in uno dei più suggestivi angoli della regione, diventando così palcoscenici alternativi. Eccoci a uno dei tre appuntamenti presso Masseria Scategna, sita nel cuore del Parco regionale delle Dune Costiere, in un percorso tra masserie storiche, oliveti milenari e aree rurali. Grazie a tutti!